Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul nostro canale! Oggi siamo qui per provare per giocare con voi con Topini in Trappola, il nuovo gioco della Hasbro. Un gioco adatto ai bambini da 4 anni in sud età per le piccole parti presenti all'interno della confezione. Si può giocare da 2 a 3 giocatori. Questo è un gioco di fortuna, dove lo scopo del gioco è quello di intrappolare il topino. Chi intrappola per primo il topino vince! Il gioco necessita di montaggio da parte di un adulto. All'interno ho tantissimi elementi. Un tabellone diviso in tre parti, una base in cartoncino per la freccia girevole e una freccia a forma di fette di formaggio completa di supporto. Un mangiaippo, uno stivale, un ramo, un elephant, una giraffa laff, un tronco per l'altalena, tre pedine, un lavandino, una scala, un tronco d'albero, un ramo con le banane, foglie d'albero, una trappola, due biglie, una scimmietta e uno scivolo a forma di fette di formaggio. Dopo aver assemblato tutte le parti del gioco, siamo pronti per cominciare a giocare. Si posizionano i topini sulla freccia rossa, quindi all'inizio del percorso. Si gira la freccia e la freccia indicherà il colore con cui far avanzare il topino. Quindi se esce il celeste, il topino dovrà essere posizionato sulla pedina, sulla parte celeste. Se il posto è già occupato da un altro topino, allora siamo fortunati perché possiamo avanzare fino alla casella dello stesso colore, quindi del colore nuovamente celeste. Se il topino arriva su una casella in cui è presente il calcio disegnato, allora possiamo, e nella zona forma gesca c'è un topino, possiamo provare a catturarlo. Se invece nella zona forma gesca non c'è nessun topino, allora non facciamo niente. Per provare a catturare il topino, dobbiamo prendere la freccia per dare un calcio al frecchio. Questo innescherà un meccanismo a catena che ottenerà la possibilità di catturare il topino facendo scendere la trappola. Si è raggiunta Alessia per giocare con noi. Alessia vuoi giocare? Sì. Allora io ho scelto il topino celeste. Alessia? Io questo qua. Quello viola. Quindi cominci al concorrente più giovane, cominci tu Alessia. Vai. Viola. Viola. La gamela. Ok, vado io. Celeste. Qui. Vai Ale. Viola. Celeste. Io sono sulla casella quella con il calcio, però non c'è nessuno nella zona forma gesca e quindi non lo posso tirare. Dove sei andata? Viola. Wow, Alessia è nella zona di pericolo. Attenzione Alessia. Vado io. Celeste. Arancione. Ti sposto io Ale che sennò parola tutto qui. Quindi Alessia è sempre nella zona di pericolo. Adesso tocca a me. Arancione. Io adesso posso tirare il calcio. Ale, no, 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 Ale, Ale, tocca a me. Guarda, guarda. Vado. Vediamo che succede. Vediamo. Parte la trappola. Ti ho catturata. Ho vinto io. Ho catturato il topino. Brava. Bene amici, anche per oggi abbiamo terminato. Grazie per averci seguito. Ci vediamo. Al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.